Con Andrea Cristini nel dopogara di Cuneo al Bissola, allora Andrea, era un Cuneo da lavoro in corso e si sapeva, oggi qualcosa di buono si è visto, tu sei un difensore per quanto riguarda il reparto arretrato probabilmente c'è ancora un po' da lavorare. Sicuramente abbiamo iniziato a ritardo e la fase difensiva soprattutto è una fase dove bisogna essere affiatati e quindi manca tanto, mancheranno i giocatori, manca anche Santa Croce che oggi non c'era, ha ancora rotto, quindi tutti insieme dovremo lavorare per raggiungere buoni risultati. Ecco, per quanto ti riguarda un inizio di stagione almeno per il momento diverso dallo scorso anno in cui ti abbiamo atteso a lungo, cioè diciamo tutto l'ambiente ti ha atteso a lungo a causa di un problema fisico, come ti senti quest'anno e quanto conta per te iniziare la stagione bene dal punto di vista fisico soprattutto? È molto importante iniziare bene dal punto di vista fisico, quest'anno per fortuna va tutto per il meglio, lo sto lavorando tanto per non avere ricadute, questo mi aiuta anche a prendere fiducia, a prendere minuti nelle gambe, cosa che l'anno scorso non ho potuto mai prendere, quindi ho sempre dovuto giocare al 60-70%, quindi spero quest'anno di dare più del 100%. Grazie a voi. Grazie a voi.